Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Finalmente vi porto sul canale la nuova scatola di Kill Team della nuova edizione e nuovo set base Kill Team Octarius che non vedevo l'ora di presentarvi e ringrazio per questa copia fornita il nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola che trovate primo link in descrizione e in sovraimpressione ma poi appunto vi dirò meglio come acquistarlo con lo sconto e tutto nel corso del video. Si torna a parlare di Warhammer 40.000, la mia ambientazione della Games Workshop preferita fin dai tempi di Warhammer Vecchio Mondo in un nuovo set base che rivoluziona completamente tutto il gioco quindi dimenticatevi il Kill Team precedente, quello che vi ho presentato perché questo è praticamente smontato e ricostruito e rifatto da zero partendo un po' dall'idea di un altro gioco di comunque grande successo della gv che è Warcry che diciamo gli accomuna un po' per qualcosa ma ve ne parlo a breve dopo la sigla Warhammer Kill Team, gioco della Games Workshop in questo set base del costo di se non erro 150€ comunque il costo dei set della gv è sempre lo stesso quindi almeno che si non andiate a prendere Adeptus Titanicus o qualcosa in tiratura diciamo limitata che può arrivare anche sopra le 200€ bene o male tutti i giochi come Cool Sand City, questo qua, il nuovo set di Warhammer, di Age of Sigmar hanno sempre lo stesso prezzo ed è un set base con all'interno 23 miniature che comprendono due Kill Team e una nuova Kill Zone ambientata appunto nel settore di Octarius che è un settore praticamente sempre pieno zeppo di guerra tipo il pianeta Krig per farvi capire dove da una parte vede i veterani degli squadroni della morte appunto della guardia imperiale dell'Astra Militarium di Krig e dall'altra parte gli orchi zabotatori ho dovuto rifarlo 10 volte sto pezzo perché sbacca, zrompi, vabbè comunque dei pelle verde degli Xeno che andranno a combattere contro appunto la guardia imperiale i Death Corps, gli squadroni della morte di Krig e lo scenario è veramente molto bello perché è tutto quanto come vedete qui davanti ora ve l'abbiamo messo tutto pieno zeppo di rottami vedete macerie e comunque sono per la maggior parte tutti quanti qui c'è anche un ponticello sono tutti quanti scenari proprio in classica base o per meglio dire accampamento di rottami di scarica degli orchi vedete anche bello questa gruppa giù col simbolo sopra penso Gork, Mork comunque divinità degli orchi e i King Team sono due che vedete là giù davanti quello degli orchi e da quest'altra parte invece degli squadroni della morte di Krig che mi trovo d'accordo con il mio amico Pippo di tutta la guardia imperiale sono i più belli mi piacciono anche i cadiani ma quelli di Krig sono ancora più belli ed è un gioco ovviamente di battaglie in competizione quindi non è un gioco cooperativo che è uguale a Warcry alla modalità battaglia oppure la modalità campagna modalità campagna che vi consentirà di farvi l'esercito come vi pare l'esercito, il Kill Team come vi pare a voi e addirittura portare avanti una squadra che mano a mano che passano di esperienza e di livello guadagna una nuova abilità oppure qualcuno potrebbe morire e va fuori dal vostro Kill Team un po' come Mordheim il dado da gioco è sempre il D6 e la differenza, ora poi vi faccio vedere delle immagini che vi monta a video la differenza col Warhammer Kill Team edizione precedente è quella dei misuratori che questa volta li hanno fatti ve li metto qua sopra li hanno fatti proprio in forme geometriche precise perché ora poi vi vado a descrivere come funzionano quindi questa è la sostanziale differenza ma soprattutto non è più un Warhammer 40.000 portato in schermaglia quindi invece che averci 30 truppe sul campo c'hai un Kill Team di 6 no, questa volta qui proprio ci sono le carte come in Warcry di Age of Sigmar sempre della GV dove quello che c'è scritto sulla carta è quello che ha l'omino punto e basta ci sono alcune truppe veterani e tutto che hanno 10 armi segnate non ce l'hanno tutte dovete scegliere all'inizio sempre due armi una da fuoco e una da corpo a corpo e dovete ovviamente segnarle però comunque quello che ci hanno segnato sulla carta è quello che possono usare quindi se un cecchino ad esempio ha il fucile laser e la spada a catena il bazooka non glielo potete dare perché comunque non ce l'ha segnato sulla carta quello che ha sulla carta è quello che ha il personaggio si va verso regole di Warcry dove si tirano molti più dadi magari si tirano 3-4 dadi dobbiamo superare l'abilità balistica o di combattimento a corpo a corpo e tutti i dadi che superano che ne so il 3 o più, il 4 o più, il 5 o più sono colpi che vanno a segno uguale identica a Warcry da 1 a 5 è ferita normale il 6 è sempre una ferita critica quindi magari se l'arma ha scritto 2-3 quando fate 6 il massimo del valore e tutti i 6 fanno danno 3 durante l'azione di fuoco di tiro il bersaglio ha un tiro salvezza quindi è un valore di difesa magari 3 dadi in difesa e un valore salvezza di 5 o più tira questi 3 dadi e per ogni 5 o più che riesce a fare toglie una ferita normale se invece riesce a fare una difesa un tiro salvezza critico può togliere una ferita critica Warcry Warcry cioè niente di più niente di meno e mi è piaciuto molto invece l'idea del corpo a corpo perché nel corpo a corpo poi più avanti vi farò vedere anche una partita o per meglio dire un battle report il corpo a corpo è una figata quando andate a fare il corpo a corpo non tirate sulla difesa la difesa che vi ho detto poc'anzi è solo per le azioni da tiro il corpo a corpo genialata devi tirare come se tu attaccassi esempio questo ti attacca e c'ha 3 dadi in attacco e ferisce andiamo semplice 3 dadi in attacco e ferisce col 3 o più il tuo uguale 3 dadi in attacco e ferisce col 3 o più lui tira i dadi magari 2 vanno a segno nessun critico ti tiri dall'altra parte per difenderti anche a te 2 ne vanno a segno ora devi decidere cosa fare con quegli attacchi con cui sei riuscito a difenderti o annulli le sue ferite 2 attacchi suoi 2 tue difese annulli le sue quindi non subisci danni oppure puoi dire no io quelle 2 ferite gliele faccio cioè quei 2 attacchi che sono andati a segno gliele faccio passare tutti e 2 e poi con i miei ferisco lui capito? perché magari se a lui gli manca un punto ferita per morire e il tuo è full cioè 10 punti ferita ti conviene incassare colpi tanto non ha fatto critici a ammazzare il suo quindi è bello perché non vedi più un combattimento un po' troppo statico un attacca e uno difende poi attacco io ti difendi no no decidi sul momento se difendere o attaccare magari non ti difendi subisci le ferite però intanto alzi la tua spada a due mani gliela cali sulla testa e gliela spacchi in due come un melone figata assurda e poi abbiamo i misuratori quando si vanno a muovere le unità sempre in pollici in unità imperiali in ammetazioni o one hammer ci sono sempre dei simbolini magari uno ci ha scritto triangolo 2 vuol dire che voi dovete prendere dalla parte del triangolo che è questa qui e misurare due volte il triangolo quindi una truppa si muoverà ad esempio da qui di questa distanza un triangolo la mettete qui e un altro triangolo se avesse scritto nel caso due quadrati andate sul lato col quadrato sotto e misurate due quadrati e questo è l'altro misuratore che è quello più lungo col pentagono e questo è se non erro dovrebbe essere di 5 o di 6 unità imperiali quindi prendete la miniatura e la muovete avanti ci sono i punti azione ogni unità c'è punti azione e un'azione costa un punto azione due punti azione poi ci sono anche le carte potenziamento strategia cose del genere e voi con le azioni che ci avete potete far fare le azioni del vostro personaggio quindi se avete due punti azione e il movimento costa un punto azione potete spendere tutte e due per fargli fare due movimenti oppure potete spendere tutte e due per farlo attaccare due volte anche perché le truppe non hanno più un punto ferita barra 2 tipo gli space marine qui le truppe hanno anche 10 punti ferita quindi nello stesso turno potete sprecare i vostri due punti azione ad esempio per stare fermo immobile e sparare due volte lo potete fare tranquillamente il regolamento ragazzi ci sarebbero poi altre cose da spiegare ma bene o male è qui ed è veramente una figata assurda e ora vi dico una cosa alla fine in conclusione questa nuova edizione di Warhammer Kill Team da una parte mi ha fatto strano perché era uscito snodo paria prima dell'estate per la vecchia edizione e costava tipo 130 euro e chi l'ha comprato che ci fa domanda eh cioè più che illecita chi l'ha comprato si tiene le miniature e tutto va bene però e gli scenari però alla fin fine delle regole non ci si fa più niente vabbè a parte questo e ne abbiamo parlato in live una volta io e il mio amico Pippo abbiamo parlato di questo regolamento prima che uscisse perché anche noi volevamo creare qualcosa che rivoluzionasse il vecchio Kill Team che ve lo juro non mi sono mai nascosto per me è il regolamento il vecchio Kill Team non questo più brutto che abbiamo fatto alla GV non mi piace ci ho fatto tre partite con rally che trovate sul mio canale Twitch e non mi sono divertito onesto e sincero non mi sono divertito tra l'altro mi sembra l'ho anche portata su YouTube perché erano tipi di regole che non mi garbavano prima si muovevano tutti i nemici quando lui aveva mosso tutte le sue truppe ti muovevi le tue cioè devi aspettare mezz'ora che quello facesse le sue mosse mentre qui invece sono alternati uno e uno e uno non mi piaceva se che ci hanno letto nel pensiero perché vi giuro stavamo io e il mio amico Pippo morissi ora stavamo rifacendo il regolamento questo due mesi tre mesi prima che uscisse e ne siamo rimasti felici infatto quando è arrivata al nostro negozio sponsor gli ho detto subito mettimene da parte una copia perché avevo una voglia disumana di giocare a Warhammer 40.000 Kill Team ma il vecchio regolamento oh non mi piaceva sono sincero non mi è mai piaciuto e quindi ci voleva qualcosa di un periodo più fresco e quello vecchio ha già 6-7 anni ci voleva un pochino eh un pochino di rivoluzionarle e tutto quanto comunque se lo volete acquistare primo link in descrizione in soveimpressione dalla gioco libreria Simula nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato e qualsiasi acquisto usate sempre il codice discount come vedete a nota Coridan 7 per avere uno sconto del 7% farvelo mandare a casa nel giro di 24 ore in tutta Europa e isole comprese lo ordinate oggi e domani ce l'avete a casa sconto del 7% col mio codice Coridan 7 in più non pagate le spese postali gratuite quindi andate ad ordinare perché ce n'ha tante copie al momento la gioco libreria Simula però ragazzi sono i giochi GV e tutti i giochi GV purtroppo lo dico anch'io sono a tiratura limitata ve lo lasciate scappare ora a 150 euro vabbè 140 con lo sconto e tutto senza spese postali vi viene voglia di prenderlo lo trovate magari smontato fra 2 o 3 mesi da un bagarino che ve lo vende a 300 quindi se lo dovete prendere e non ci giocate perché non avete tempo compratelo comunque e mettetelo da parte perché fra un paio di mesi lo pagate 300 euro da bagarini maledetti ed è purtroppo la verità io ringrazio la gioco libreria Simula e ragazzi finalmente Kill Team è tornato ho il misurino a mano che mi calverà a morire mi ricorda il misuratore delle unità imperiali di Warhammer vecchio mondo ai tempi d'oro che era veramente uno spettacolo non vedevo l'ora e è veramente 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 come me l'aspettavo forse anche più bello di come l'avrei voluto fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima